La proposta di rete ospedaliera della regione al governo per il centrosinistra è un blef, un piano redatto per essere impraticabili a loro giudizio. In conferenza stampa i consiglieri Silvio Paolucci, Americo Di Benedetto, Sandro Mariani, Pierpaolo Petruccia e Dino Pepe hanno accusato il governo regionale di aver scritto in due anni un documento pieno di contraddizioni che non decide. Ipotesi e procedimenti campati in aria, ha spiegato Paolucci, si è fermi ad una bozza inoltrata nell'ottobre del 2019. Insomma, la sanità per loro viene gestita senza nessun atto di programmazione. Una criticità notevole per i consiglieri è che si delega la programmazione sanitaria ai direttori generali delle ASL che si sostituiscono così all'esecutivo regionale, ma non solo. Il tutto fuma e niente arrosto in calza Paolucci è proprio su idea di secondo livello. Per i quattro comuni capoluogo pensano di lasciare le cose come erano tuona. Sono idea di secondo livello di 15 anni fa, soltanto nel nome. Lo hanno consegnato a ottobre del 2019. Dopo un accesso agli atti, abbiamo atteso mesi per avere le informazioni, siamo arrivati al 2021 e questo dovrebbe essere il piano 2019-2021. Hanno tradito tutte le attese e le promesse della campagna elettorale quando hanno chiesto a Salvini e a Lameloni di cavalcare e strumentalizzare la sanità. Il risultato è che ci ritroviamo senza piano, senza governance e che tutte le promesse elettorali sono state tradite. La bozza della nuova rete nasce per non concretizzarsi per il centro-sinistra e cancella la programmazione del centro-sinistra stesso, tornando ad un'impostazione superata da oltre 15 anni e da nuovi provvedimenti legislativi. I territori sono tutti penalizzati per l'opposizione. L'emodinabica a Vasto, la questione dell'ospedale di Atessa, Sulmona, Guardia Grele e tante altre criticità. Ci sono inoltre risorse ferme per l'edilizia, 500 milioni, per l'Aquila, Terra, Mabizzano, Sulmona, Basto e Lanciano, cancellando gli investimenti per Chieti. Per Mariani, quando il governo regionale dovrà presentare il piano, si creeranno delle frizioni anche in maggioranza. Una maggioranza per loro incapace di dare risposte agli abruzzesi. Il centro-destra per loro sa che sarà bocciato il piano, serve solo per fare un po' di scena, dicono. Da Popoli e Penne, le quali deroghe scadranno addirittura ad aprile del 2021 per arrivare all'emodinamica a Vasto, a Atessa, per incrociare i problemi a Sulmona, tradite le aspettative sia sul punto nascita che per quanto riguarda il DEA di primo livello, per arrivare ovviamente anche alla drammaticità di quello che abbiamo rilevato tutti per i fatti di cronaca ad Avezzano. Non c'è alcun piano, non c'è alcuna promessa mantenuta e abbiamo lasciato, hanno cioè loro, lasciato la sanità, lo sbando per questi due anni, lasciando tutti i programmi vecchi della vecchia giunta del centro-sinistra e non approvandone alcuno di nuovo.